Come solito ragazzi vi invito a lasciare un like e con hashtag consiglio potete darmi un bel consiglio qui sotto nei commenti Quindi mi raccomando ricordate il hashtag per qualcuno magari nella scorsa puntata non l'ha fatto Quindi mi raccomando Ciao ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata nella nostra serie della survival Ragazzi è episodio numero 42 E infatti ho tirato un po' di consigli interessanti Quindi vi ringrazio per hashtag consiglio che in effetti ha funzionato Infatti qui devo un attimo rompere questa roba che tanto non mi interessava Non mi ha tirato troppi consigli riguardanti magari diciamo l'estetica di questa zona Quindi per ora non la cambieremo perché sembra essere interessante e vi piace Quindi sono felice di questa cosa Mentre per quanto riguarda il resto ovvero per quanto riguarda tipo per esempio la farm automatica di fornaci Che sarebbe in sostanza poi una cottura automatica di fornaci Mega fornaci anche per chi ha utilizzato questo termine Possiamo vedere una cosa interessante che mi avete scritto davvero in tantissima Ovvero la fornace di Zela Il problema ragazzi con la fornace l'ho già vista Ma al momento non la voglio fare qui subito subito Perché è una fornace interessante che però mi richiede troppo tempo E troppo spazio da fare in questo misero posto Quindi lo farò quando avrò una seconda casa Che probabilmente avrò nel prossimo futuro Quindi grazie per il consiglio però per il momento Quella è da diciamo buttar via Perché non è importante per ora Diciamo quella tipologia di costruzione Nel nostro luogo Come ho già detto la nostra casa primaria Perché come ho già detto anche tante altre volte Questa è una casa senza cose automatiche Quindi in futuro faremo un luogo dove abbiamo tutto automatico Dove possiamo recuperare più roba E che diciamo fa tutto da solo Un consiglio invece che voglio sfruttare Perché mi sembra un consiglio molto molto interessante È quello di un ragazzo che sicuramente Vabbè ti avevo messo qui a schermo Mi dispiace se non ricordo il tuo nome Ma non mi ricordo davvero tipo il nome Che ho letto tipo due secondi fa anche Quindi sono stupido E mi ha detto perché non usi un tappeto Per coprire l'hopper Ovviamente è una cosa giusta E se non ricordo male il tappeto Dovrebbe permettermi anche di far passare sotto la roba E quindi spero ovviamente sia così Un po' troppi polli Stanno iniziando a diventare un po' troppi Dicevo comunque Quindi che facciamo? Ne apre un po' di lane Tanto le lane comunque stiamo continuando a prenderle Perché dobbiamo continuare ancora la considerazione di sto coso Chi si sta piegando più tempo del solito E' sincero Un po' uno sbattimento questo coso Però insomma non è un problema in primo momento E ce lo facciamo verde mi sa Quindi a questo punto continuiamo ad uscire un attimo fuori So che non dovrei farlo di notte però Dettagli E ce ne va a prendere Vediamo un attimo se facciamo così Un pezzo di cactus Che poi i cactus qui continuano ancora a crescere Ma in realtà non li stiamo manco utilizzando troppo Però è buona come cosa Quindi con la farà me la ricreerò magari in larga scala Perché mi piace come idea E quindi mettiamo qua c'è il nostro cactus Per farci il green Poi il green ovviamente Che sarà più o meno simile a questo Lo utilizzeremo per diciamo Far sì che sia abbastanza simile al pavimento Io spero davvero che questa cosa che mi avete detto voi E' vera Ovvero il fatto comunque di poter mettere sopra Una roba Oddio non posso farlo No dimmi di do farlo per ogni pezzettino di wool No ma se di serio Mi sono due pezzi ancora Diamine In realtà ero stato due Però io ne ho fatto comunque sei Perché tanto visto che c'era Ho preso comunque la lana per le prossime cose Perché spero che dobbiamo mettere comunque Lì dentro Altra lana E anzi tipo Dove fare con altre due Credo E beh ci sono sei Per ogni luogo Quindi sì Vabbè In punto Devo servirà anche con la lana Non preoccupatevi Questo carpet sembra abbastanza simile all'erba Quindi va in teoria abbastanza bene Devo essere sincero Vediamo un po' se è vera sta cosa Ragazzi Se mettiamo questo qua Allora vediamo un attimo Se faccio così Allora Ovviamente Vabbè qua si è aperto Ok Facciamo così E più che altro Mi sa che non lo metta Allora così Adesso va così Vediamo Se mettiamo questo Ragazzi ci passa Però non possiamo tipo Nessun modo Rompere Cioè far vedere cosa c'è dentro Quindi come facciamo in realtà In realtà ragazzi Potrebbe essere un problema Vabbè però mettiamoci questo Ok In realtà funziona Il problema è che ogni volta Poi devo romperlo Quindi Ok Funziona Però è una cosa che Tipo è abbastanza manuale Quindi non so se lo terrò Perché Potremmo essere uno sbatti Magari lo alziamo di uno Così facciamo sì Che sia a livello del Del prato E non sia Troppo ad occhio Comunque che si vede Quindi Ora che dobbiamo fare Dobbiamo completare un attimo Questa stanza E per farlo Ho bisogno di un attimo Di piazzare altre Sei fornaci Ok E un bel po' Di questi brick Di stone Per quanto riguarda il tetto Credo di andare per ora O come questo Ok In questa maniera Oppure Oppure boh ragazzi Ci sto pensando Mentre qua c'è lì dentro A proposito Possiamo fare una cosa importante Che più che altro È finalmente Il nostro primo enchant Su Diciamo Qualcosa Fatto Diciamo in quella stanza Quindi felicissimo Questa cosa Ovvero io ho un bel po' Di diamond E possiamo pensare Di farci Un enchant Non solamente perché tipo Abbiamo stato 32 livelli Quindi poi ci accontentiamo E ci facciamo quindi Un corpetto in diamante Andiamo a lasciare i diamanti Un attimo qua Prendiamo giusto I lapislazzoli Che ci interessano Allora mi servono Tre lapislazzoli Proviamo a vedere Se riusciamo a trovare Un enchant Decento Per il nostro corpetto E mi sa che l'ultimo Se l'è preso Roberta E non ce l'ha più portato E quindi brutta Roberta Che dovesse darci ancora indietro Il mio corpetto Comunque Proviamo a vedere Che cosa Diamo riuscire a fare qua Ovviamente vogliamo 30 livelli Quindi attiviamo questo Perfetto Boom 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 Ok Unbreaking 3 Protection 3 Ok Ci può stare In realtà Dovrebbe uscire Vose di meglio Però va bene Protection 3 Per il momento E anche unbreaking Non è per niente male Credo di avere tutto necessario Per poter completare Finalmente la nostra stanza Delle fornaci Poi ci rimane Al momento da fare Ancora La chiusura di questo posto Vabbè ma questo Non so se lo chiuderò mai Perché è uno sbattimento Farlo sinceramente Magari Non so Un po' di cobblestone Ce la metto Però non so bene Quanto voglio fare Questa roba E a parte questo Devo ancora completare Quindi questa stanza Che va ristrutturata Perché la vecchia stanza Dove si era il letto Quindi va ristrutturata Anche se in realtà È troppo lontana Allora ci penso Però va bene così Devo anche lasciare Una piccola a proposito Lasciamolo qua Perfetto Poi devo ristrutturare Questa stanza ancora Che per ora Sta di vita ancora Agli alberi Però sto pensando E magari potrebbe diventare Una farm Perché fare gli alberi interni È un po' una merda Quindi magari Che non so Levo tutto questo vetro E sistemiamo qualcosa Però non chiedetemi Se lo farò adesso Perché non lo so Sinceramente E cos'altro devo fare Quindi nient'altro Credo Vabbè ovviamente Finire anche la stanza Delle pecore Ragazzi anche quella E poi abbiamo fatto tutto quanto Quindi yeah Ci siamo ragazzi Abbiamo quasi completato La nostra prima casa Più o meno Perché manca ancora Un paio di cosette Ma siamo lì Guardate guardate il tetto Come state vedendo Sto utilizzando Gli stone brick slab Perché? Perché mi piacciono ragazzi Quindi Ehi non l'avete mai notato Il fatto che mi piacciono Gli stone brick Davvero Seriamente E comunque sono belli Guardate qua Bam E al centro Magari visto che comunque C'è il centro Ci mettiamo una lampada Che andrò a prendere Ovviamente dopo Perché ora non c'ho voglia Mentre di qua Io posso ufficialmente dire Di aver completato Questa roba Allora vediamo un attimo Di fare così La lava dovrebbe scendere Senza problemi Perfetto E quindi qua ha fatto Qua ha fatto Me ne mancano Oh dia Mi erano tre Non erano due Cavolo io mi sono preso Tanto due di lava Vabbè sono stupido Ok quindi mi manca Un altro pezzo di lava In frattempo prendo anche la lampada E piazziamo la lampada al centro Così abbiamo fatto tutto quanto Anche se in realtà Forse la lampada al centro Non serve però Dettagli ragazzi Voglio fare un'ultima prova Prima di poter mettere Un attimo la lampada E dire che la stanza è conclusa Ovvero potremmo pensare Di fare una cosa abbastanza strana Sinceramente Però potrebbe essere interessante Che altro magari la facciamo Giusto così Perché tanto non dovrebbe andare qua Alle lati Vero perché non mi ricordo In realtà se funziona sta cosa Vediamo un attimo Riesco a far uscire la lava Va bene Però La più grande al momento Non è tanto la lava Nel fatto che comunque Qua al centro abbiamo una cosa Fastidiosa Allarga Più o meno nove Quindi Che dite la possiamo lasciare Ma secondo me è troppo ingombrante Quindi no niente Niente lava Scusatemi Ho giusto fatto una piccola prova Però mi sa che non ci conviene troppo Meglio la lampada E così Potremmo dire Di aver completato finalmente la stanza Quindi tutto questo E ciò che abbiamo diciamo Creato al momento Questa è la stanza completa Al certo per cento E' molto più bella Rispetto alla precedente stanza Più o meno La precedente stanza Forse non ce l'ha nemmeno Però E' ancora più carina Rispetto a Normale Normale idea Che avevo avuto in mente Ci può stare Magari Potremmo far sì Che Ci sia qualcos'altro qui No però Poi sarebbe troppo brutto Più o meno Poi non voglio saltare No no va bene Così va bene Magari Oddio Se proviamo a fare così Magari Ok così possiamo sempre entrare Ok E l'idea che comunque sia sempre aperta Più o meno Credo Perché comunque ci può stare Sì dai ci può stare Ci può stare So che tipo saltiamo Però al fine è automatico Quindi va benissimo così Ragazzi quindi per ora abbiamo completato Per ora le cose che dobbiamo fare oggi Sono felicissimo di aver fatto questa cosa Vado a fare un'ultima cosetta oggi Però vado un attimo A inciantarvi Purtro a farmare Dentro al posto Ah è vero A proposito A proposito Prima di concludere la puntata Io volevo concludere Dicendo che comunque Avevo davvero pochi progetti Ormai da fare Ma mi sono ricordato Una cosa importantissima Noi Non tocchiamo La farm dei mob Da tempi Memory Quindi in effetti Avevo anche da fare quella E lì il problema è che In effetti le idee C'erano davvero poche Perché Come ti amico a fare Una farm di mob Quindi se avete Quindi se avete delle idee ragazzi Mi raccomando Come stavolta Vabbè L'ho detto sicuramente All'inizio del video Però hashtag consiglio Per darmi delle idee Così potete apparire Anche in video ovviamente Per chi avrà avuto delle idee Indescenti E qui Devo mettere anche addirittura Ancora posti sopra Quindi devo fare ancora due lavori Prima di tutto Completare la mob farm E fare anche questo Mini tracciato Che dovrebbe avere tipo All'interno della luce O almeno credo Fosse della luce Comunque quindi Nether Altre lampade Insomma Qual è il problema E qui vedete Abbiamo fatto tipo questa parte Ma non l'abbiamo mai completata Perché in effetti Era abbastanza bruttina Quindi dobbiamo pensare Magari 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 Possiamo utilizzare la clay Che non l'abbiamo ancora utilizzato In questa occasione Quindi potrebbe essere un'idea Sapete qua la leva è inutile Perché insomma Non serve a niente E quindi aspetta un attimo Che spawnano dei mob Li uccidiamo Nero all'erlo 30 E facciamo l'enchant Del nostro primo arco Che dite Potrebbe essere l'idea Proviamoci Tra i livelli raggiunti E adesso si va a fare l'enchant Ultimo enchant della giornata E anche il secondo in realtà Nella nostra zona Poi vabbè Ovviamente non ci ricorderemo mai Quante ne avremo fatti In futuro Però allora va bene E praticamente comunque La luce va bene Mi avete consigliato In realtà un ragazzo Mi ha consigliato su telegram Di fare tipo alcune lampade Che c'erano dall'alto Non so se ci stanno bene Però ci proveremo a metterne Uno o due Che sono lampade solite Che avete già visto Ovviamente molte volte online Quindi Proverò a fare un paio di lampade Di quel tipo E se vi piaceranno Magari potremmo metterle Però non è davvero essenziale Come cosa Quindi non preoccupatevi Ci proveremo a fare un paio di cose Decenti e carine Però non è essenziale la cosa Mi sa che mi serviranno Sì mi servirà un altro arco Perché tanto Volevo quello completo Se com'è Riesco a fare Iniziatore quello completo Non quello standard Schifo Che recuperiamo dalla roba E è giunto il momento Della verità ragazzi Proviamo Andiamo un po' Boo Unbreaking 3 E Eba Eba Ok Che bella la vita ragazzi Noi ci salutiamo Ci vediamo presto Nel unissimo video Che schifo la vita Davvero Ciao ragazzi Ciao